Sì, sai cos'è la cultura? Oh, la cultura, è importante pure, la cultura. Sono i viaggi che hai fatto, le persone che hai incontrato, i libri che hai letto. Il cinema, il teatro, il teatro, tu sei mai stato a teatro? Sì, capo che sei stato a teatro, io sono stato a teatro. Ma che hai visto? La traviata. C'è? La traviata. In che senso? In che senso, la traviata. La traviata, oh! L'opera, l'opera della lirica. Ma, in che senso? In che senso. La traviata è, oh, la traviata, là dove ci stanno i cantanti che cantano il fatto. Ma che fatto? Canto il fatto. Chi ce ne sa? C'è tutte le cose, capito? La storia. Facci ne insieme, allora, facci ne insieme. Allora, tu, tu stavi qua. E sono venuto dopo di te, sono detto come si è vestito. Che cosa stava, capito? Vincerò, vincerò. Ma tu sei bravo. Ma se non c'è la voce. Ma tu sei male di Albano, veramente. Ma io avevo cantato Albano. Albano. Ma va a fangula Albano. Ma che hai fatto cantano quelli? C'è? Il fatto che canta, che hai fatto cantano? Ma? La storia della traviata. La traviata. E' questa una femmina, no? Questa femmina, capito? La femmina persa. Corrotta. Una puttana. Puttana. Però alla fine questa femmina si redime. Ah, capito, capito. Si, cantano la storia della puttana pendente. La cultura ti apre gli occhi, capito? Ti fa vedere le cose del mondo in una maniera completamente diversa. Ti apre lo sguardo.